Buongiorno a tutti, sono Federico Motta, uno studente del quinto anno del corso di medicina e chirurgia presso l'Università Bitcocca e oggi presenterò una breve review sul possibile utilizzo di chetamina nel trattamento di disturbo ossessivo compulsivo resistente. Il disturbo ossessivo compulsivo è un disturbo di pertenenza psichiatrica che colpisce circa 1-3% della popolazione ed è classificato secondo il DSM quinto come un disturbo d'ansia. Infatti è caratterizzato dalla presenza di ossessioni, cioè di pensieri ripetitivi intrusivi non voluti dal paziente e dalla presenza di compulsioni, cioè di comportamenti anche essi ripetitivi che dovrebbero limitare i livelli d'ansia indotti dalle ossessioni. Vediamo che non è così, infatti le compulsioni diventano time consuming e soprattutto diventano interferenti con la quotidianità dei nostri pazienti. In generale vediamo che i trattamenti canonici si basano sulla psicoterapia, sull'utilizzo di fluvoxamina che è un inibitore della ricaptazione della serotonina oppure della quimipramina che è un antidepressivo triciclico, ma nel 20-25% dei casi i pazienti non sono responsivi e vengono definiti appunto treatment resistant. Ci chiediamo dunque se chetamina possa essere utile anche nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo resistente, partendo dal fatto che è stata recentemente approvata anche come efficace nel trattamento della depressione resistente, oltre che come anestetico dissociativo. In generale il suo meccanismo d'azione è molto complesso, riguarda l'antagonismo dei recettori NMDA per il glutammato, espressi sia su neuroni glutammatergici che interneuroni gabaergici. I suoi effetti comunque riguardano l'aumento di livelli di BDNF circolante che è un fattore neurotrofico fondamentale che attiva la cascata mediata da MTORC1 e che porta a sua volta a un aumento di sinaptogenesi e plasticità neurale, come si può anche dimostrare con questo studio sul modello animale che ha previsto l'infusione di chetamina e la valutazione della densità dendritica nel tempo, che risulta essere sicuramente aumentata nei topi che hanno ricevuto chetamina piuttosto che nei controlli. Dunque abbiamo eseguito una ricerca letteraria valutando sia modelli animali che trae alcinci su uomo per capire se chetamina possa davvero essere utile. Nei modelli animali vediamo che solitamente per mimare i sintomi ossessivi compulsivi si esegue il marble boring test che prevede l'inserimento di un topo che ha ricevuto dei distress esogeni all'interno di una gabbia dove sono presenti alcune biglie. Il topo andrà fondamentalmente durante il test a sotterrare alcune biglie. Il numero delle biglie dipende, almeno teoricamente, dai livelli di stress. Nello studio scelto, eseguito da Cristiana Tosta, vediamo che somministrazioni più alte di dosi di chetamina inducono una maggior riduzione del numero di biglie sotterrate da parte del modello animale. Questo sicuramente è un finding importante che potrebbe essere sicuramente positivo nella valutazione dell'efficacia di chetamina. Ovviamente il nostro focus è più rivolto nel modello ovviamente umano proprio perché è difficile mimare quelli che sono i sintomi ossessivi compulsivi nel modello animale. Nell'uomini, vediamo che il primo studio è stato eseguito dal gruppo del professor Block, i pazienti hanno ricevuto una dose di chetamina e poi sono stati valutati con delle scale psichiatriche specifiche per il disturbo ossessivo compulsivo e si è notata una riduzione importante dei sintomi ossessivi compulsivi che però è risultata efficace perlomeno nelle prime ore dopo la somministrazione e non sembra aver avuto effetto in modo permanente. Invece nel secondo studio selezionato eseguito dal gruppo della professoressa Rodriguez che fondamentalmente era uno studio randomizzato e controllato, si è dimostrato che il gruppo che ha ricevuto chetamina presentava una riduzione dei sintomi ossessivi compulsivi che potevano per durare per diversi giorni, fino a sette giorni. Invece il gruppo di controllo è stato appunto, come si può notare dal grafico, non ha subito nessun tipo di variazione nei punteggi ossessivi compulsivi. Di conseguenza possiamo dire in generale che l'utilizzo di chetamina mostra un rapido e efficace riduzione dei sintomi ossessivi compulsivi sia negli uomini che negli animali, ma questo deve essere sicuramente meglio indivestigato con dei trai a lungo termine randomizzati, controllati con delle somministrazioni multiple. Ringrazio il progetto Virgilio, la professoressa della rivolta che mi aumenta nel contesto del progetto Virgilio, il dottor Marcatili e ovviamente l'Università di Modena. Grazie.